Continuano gli episodi di violenza e disagio all'interno del carcere di Villa Fastigi. Dopo le aggressioni ai danni di 9 agenti di penitenziaria e le minacce rivolte ad un'infermiera e ad altri poliziotti, le organizzazioni sindacali di riferimento hanno denunciato l'ennesimo evento critico avvenuto all'interno della casa circondariale di Pesaro. Nella giornata di lunedì, un detenuto di nazionalità marocchina, per futili motivi, ha devastato un'intera sezione detentiva del carcere, distruggendo le telecamere poste all'interno del reparto e successivamente staccando parte dell'impianto elettrico dal muro, provocando un blackout sulla linea elettrica. Non soddisfatto, l'uomo, in preda ad una crisi di nervi, ha poi distrutto e danneggiato anche oggetti e mobilio, tra cui tavoli, sgabelli e telefoni, presenti nei locali, mettendo in subbuglio e a rischio la sicurezza dell'intero reparto. Inutili e inascoltati sono stati i tentativi messi in atto dal personale di polizia penitenziaria, allo scopo di far desistere l'uomo nel distruggere i beni dell'amministrazione. Lo stesso detenuto, alcuni giorni prima, aveva devastato ed incendiato un'altra stanza detentiva, distruggendo i sanitari e altri oggetti di arredamento, rendendo quindi inagibile la camera. Gli episodi di disagio causati dall'uomo sono soltanto gli ultimi di una lunga serie, visto che il detenuto era stato precedentemente allontanato da altri istituti penitenziari per gli stessi gravi motivi. I danni registrati finora e per il quale il soggetto dovrà rispondere all'amministrazione penitenziaria si agirano intorno a diverse migliaia di euro. Difficile però, vista la situazione economica dell'uomo, che quest'ultimo possa risarcire lo Stato. Il detenuto in questione si aggiunge alla lunga schiera di tutti quei soggetti che solitamente compiono il cosiddetto turismo penitenziario, ovvero lo spostamento da un istituto all'altro nella speranza che con arrivo nella nuova struttura certi episodi non si ripetano. Allo stato attuale delle cose e in assenza di stanze disponibili da accogliere un soggetto con tali problematiche, le stesse organizzazioni sindacali hanno chiesto con urgenza il trasferimento immediato dell'uomo dalla casa circondariale di Pesaro. A Falconara invece, in seguito ad un controllo effettuato dagli uomini della polizia stradale nei confronti di un'autovettura ferma a bordo strada lungo la Flaminia, due agenti sono stati presi di mira e malmenati da una 52enne residente a Marotta. La donna, come riferito dall'uomo che si trovava con lei, aveva alzato un po' il gomito e dopo aver cercato di allontanare i due poliziotti ha iniziato a sferrare contro questi calci e pugni. Alla donna, che è stata prontamente portata in centrale per l'identificazione, è stato poi convalidato l'arresto in attesa dell'inizio del processo.